buongiorno e buon sabato mattina benvenuti a occhio i giornali come sempre tutte le mattine siamo in diretta sono le 7 45 apriamo l'informazione su fano tv con questa rubrica quotidiana però prima di fare ciò come sempre il santo del giorno e poi le previsioni del tempo oggi è sabato 31 maggio la chiesa celebra la visitazione della beata vergine maria il sole è sorto alle 5 e 29 e tramonterà alle 20 e 43 e allora sul tempo c'è poco da dire non è un granché lo possiamo constatare anche da soli vediamo però insomma come si svilupperà nel weekend per oggi le previsioni sono queste come vedete il cielo è irregolarmente nuvoloso addensamenti cumuliformi durante le ore centrali della giornata ci sono possibilità di rovesce temporali anche nei rilievi appenninici in maniera più intensa e nel pomeriggio ci dovrebbe essere un esaurimento di questi fenomeni vediamo per domenica sostanzialmente il cielo è poco nuvoloso debole attività cumuliforme quindi andrà a migliorare nelle ore centrali della giornata anche per quanto riguarda domenica dovrebbe tendere al bello vediamo per lunedì infatti vediamo il sereno e poco nuvoloso senza alcuna precipitazione per lunedì le temperature vediamo quelle di pesero 14 20 gradi per oggi e anche per domani 12 21 gradi più o meno sono leggermente al ribasso e allora dopo questa veloce scorsa sul tempo guardiamo i giornali apriamo subito con in primo piano dalle pagine del carlino su pesero allarme sicurezza una pensionata ha passato qualche brutto momento perché l'altra sera a santa maria delle fabrecie si è ritrovata in casa due ladri che l'hanno sorpresa e quindi lei mentre guardava la televisione nel soggiorno loro erano in camera da letto a rovistare tra le sue cose è stata derubata anche la vicina i malviventi hanno colpito in due appartamenti attigui però che erano privi dei proprietari al momento della loro irruzione la padrone di casa naturalmente non si era resa conto di ciò c'era la tv accesa e quindi insomma brutta avventura per questa pensionata ancora la città che protesta perché la questione della sanità è all'ordine del giorno non solo per il nuovo sindaco di pesero ma mezzolani sta spingendo sull'acceleratore e quindi insomma è un tema molto caldo però ci sono tante cose che non va un lettore del carlino racconta la sua disavventura perché pensate va in ospedale con un'ernia da operare ma gli fissano l'intervento dopo un anno e insomma il lettore racconta il resto del carlino che è sano e salvo per il cambio del chirurgo leggete questo articolo perché c'è dipanata tutta la disavventura di questo ascoltatore dolori e attesa insopportabili insomma quindi veramente brutti momenti brutta pagina anche per la sanità e poi barriere al seggio disabile costretta a votare nel parcheggio l'altra pagina l'altro volto delle delle votazioni il protagonista della disavventura una tedesca residente da dieci anni a monte fabbri perché qui tutto è difficile questa è la sua è la sua domanda chiaramente in germania forse le cose sui disabili vanno leggermente meglio e quindi insomma si meraviglia che qui da noi non siano altrettanto così le cose e poi il giorno dell'investitura di matteo ricci nella sala rossa del comune di pesaro nuove assessori per evitare guai nel senso che cerca di non diminuire il numero di assessori più di tanto novità e donna tante le donne riduzione minima e molta attenzione agli equilibri spunta la preside giuliana ceccarelli e poi anche lui insomma estremamente sorridente come in ogni foto dice siamo i primi su tutto subito al lavoro quindi insomma si mette subito all'opera per portare avanti il piano la sua visione di città di pesaro ricci il neosindaco diffonde il messaggio e che gli consiglierò a renzi questi queste eccellenze per cui insomma tanto lavoro anche per il sindaco neosindaco di pesaro matteo ricci e poi ancora per quanto riguarda l'omicidio l'attentato a lucia con l'acido c'è una trasmissione a livello nazionale che ha ospitato in diretta dalla casa di varani una uno stralcio di trasmissione 20 minuti uno stralcio importante il collegamento col programma di rai 1 di paola perego la vita in diretta però è scoppiata una bagarre perché suo figlio deve restare in galera questa è un'affermazione che è venuta fuori durante la trasmissione e il papà di francesco sbotta e quindi insomma momenti veramente di grande calore di grande tensione durante il collegamento con la casa di varani in trasmissione commentare non c'era nessuno che conoscesse un singolo atto delle indagini questa dichiarazione allora ancora dalle pagine del carlino andiamo a fano e il comune promette un terreno alla virtus volley ma poi fa marcia indietro impianti sportivi questa un'altra questione estremamente calda non solo per fano ma per tutte un po le città la società aveva già chiesto di ottenuto i finanziamenti alla collettività non costava nulla questo era la dichiarazione della virtus volley e poi la piazza la piazza 20 settembre a fano oggetto di attenzione anche l'estate scorsa per i tavolini all'aperto occupazione del suolo pubblico e giancarlo pucci dice la piazza è un po da rivedere non è solo un posto dove consumare delle piadine ma anche un luogo di cultura e quindi l'estroso artista chiede che anche il rifavicimento della pavimentazione e quindi qui in questo articolo c'è una bella intervista all'artista fanese e poi cambiamo testata andiamo nelle pagine Corriere Adriatico di Pesaro dove il titolo centrale giustamente essendo il nuovo sindaco è tutto dedicato a Matteo Ricci e quindi anche la coniazione di un nuovo slogan da parte da parte del neosindaco esponendolo in un cartello ne fa un nuovo tormentone dopo un bel po adesso va vietato dire che non si può fare e quindi cerca di trascinare anche con degli slogan l'ondata positiva della sua elezione il nuovo sindaco con la fascia tricolore manterrà la delega alla sanità oggi la giunta con i nuovi nuovi assessori e la sanità come ha dichiarato più volte mantenendo nel lui la delega sarà il suo primo punto raid dei ladri sulla statale ha rubati orologi ori e soldi è avvenuto a Pesaro nella statale 16 appartamenti svaliggiati lungo la statale poi catena ha pagato colpe non sue ma ci faremo valere adesso la sconfitta naturalmente la notte di lunghi coltelli è molto più lunga di una notte perché si continua a fare il post elezioni a tirare un po le somme la sconfitta del partito democratico è arrivata anche a Cagli il segretario comunale Paolo Sabatini assolve però l'ex sindaco ancora dal corriere adriatico allagati i garage e le case acquazioni a mercatale di sasso corvaro bloccato il traffico quindi andiamo un po nell'entroterra della nostra provincia dove naturalmente il dissesto idrogeologico alle volte può essere ancora più accentuato vedete nella foto l'intervento con le idrovole dei vigili del fuoco per dragare l'acqua e ancora dalle pagine del corriere andiamo a Fossombrone edifici scolastici approvato il piano servono oltre 400 mila euro per la risistemazione degli edifici bene fanno naturalmente la questione dell'incidente che è costato la vita a Praga di padre e figlio Ordonselli la questione non termina qui ci sono dei risvolti che vengono approfonditi dei tecnici stanno andando nella città nella capitale per svolgere delle indagini sugli incidenti che è costato la morte appunto ai due fanesi ci sono anche dei soldi che sono scomparsi e si ventila un'invasione di corsia del camion che si è scontrato frontalmente con gli Ordonselli e quindi è una questione da approfondire che si approfondirà nei prossimi giorni e la teremo debitamente d'occhio e allora pagina di Fano del Corriere Adriatico ci sono tante notizie vetrina dedicata al Made in Italy sapete questa è una esperienza già vissuta dai fanesi torna questa rassegna di eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane naturalmente da oggi fino a lunedì 2 giugno torna Made in Italy tanti gli espositori provenienti da tutte le parti d'Italia che proporranno specialità e novità anche assolute e poi di spalla una nota che riguarda la cultura l'associazione Fano Music Story Film presenta quattro pellicole che hanno parlato di musica musica rock naturalmente il via il 3 giugno con il film Yellow Sunmarine che parlava appunto della storia dei Beatles e poi anche Quadrofinia con Sting insomma quattro pellicole dedicate alla musica e poi la rock ammalatestiana la cultura è di casa perché per tre mesi tenete d'occhio questo festival work in progress festival è un festival che abbraccerà un lasso di tempo così ampio tante le performance e tanti gli appuntamenti per questo monumento nel centro fanese e poi il biogas il tar da ragione alle ditte per la prima volta viene emanata una un pronunciamento contro la regione da parte del tribunale amministrativo e quindi una vicenda una telenovela senza fine come titola il il corriere di spalla vi segnalo questa bella iniziativa degli studenti al museo del balì per una tv una iniziativa che si chiama una campagna denominata non spreco promossa dalle scuole della provincia a partire dalle 15 e 30 tanti alunni daranno vita a questa manifestazione nel museo del balì di oggi oggi e poi ancora sostegno degli alluvionati che cosa accade gli alluvionati vicini amici senegaliesi che ancora sulla loro pelle vivono questa brutta esperienza che hanno vissuto ci sono ancora degli sfollati pensate ancora oggi dopo oltre un mese dall'avvenimento e allora anche quest'anno tutti in bici l'associazione gag lucignolo dedica questa attività una raccolta fondi per sostenere gli alluvionati per dare manforte a tutti coloro che a senigallia non stanno vivendo buoni momenti allora andiamo a vedere come se la stanno passando dalle pagine del corriere adriatico purtroppo episodi anche spiacevoli di sciacallaggio come alle volte accade in questi momenti è scoperto uno sciacallo ma arrivano anche le buone notizie perché sono pronti i primi fondi un foggiano sorpreso a rubare e poi il comitato operativo comunale dice sono già disponibile un milione di euro per gli alluvionati pensate ci sono ancora 58 sfollati che non riescono a rientrare nelle proprie case quindi una situazione ancora per nulla stabile ancora per nulla a regime quindi cambiamo testata andiamo sul messaggero da pesaro appunto la provincia verso il commissario perché sapete Matteo Ricci è stato proclamato sindaco si dimetterà da presidente e quindi la provincia di pesaro va verso il commissariamento la giunta è praticamente fatta qui ci sono i numeri 5 uomini e 4 donne tra le sterne spunta ceccarelli e ancora andiamo all'interno del messaggero perché ci sono anche le tasse che una delle quali è la tasi che preoccupa e crea notti insonni la scadenza si avvicina ma non tutti sanno che devono pagare quindi a pesaro questo è un problema che si affronterà perché il 16 giugno quindi fra pochi pochi giorni dovranno essere versati questi contributi e c'è ancora un po di confusione non tutti sanno cosa e come e quanto devono pagare e poi la vicenda dell'anziana che si è trovata faccia a faccia con i ladri pensate gli hanno detto stai buona ride l'altra sera appunto a santa maria delle fabrecie ma i furti ci sono stati anche a fano quindi non solo pesero a essere interessata da questa piaga e allora ricci sindaco la giunta è quasi fatta però la provincia sarà commissariata qui all'interno nell'articolo di luca fabbri tutta dipanata la vicenda che riguarda sindaco nuovo e vecchia giunta provinciale al centro ormai questa è un'immagine che ci ha rassicurato in più pagine il sindaco uscente e quello entrante con grandi sorrisi smiling face per tutti e due caporetto a 5 stelle esulta solo cinzia ferri il dopo voto per i pentastellati non è stato proprio rose fiori e quindi si tirano un po le somme anche da loro l'unica a festeggiare è cinzia ferri la prima cittadina di monte labate unico segno positivo del movimento che perde consenso in tutti i più grandi comuni allora dalla pagina di fano del messaggero naturalmente la politica anche qui alla coda lunga perché andiamo verso il balottaggio e allora i due sfidanti omiccioli e seri a caccia di voti e di consensi ad aprire le danze e ad romiccioli che oggi alle 15 nel parco urbano dei passeggi darà vita a un incontro informale un incontro pubblico però domani alle 11 e 30 la controparte quindi massimo seri ha organizzato un incontro pubblico nella sala verdi del teatro in piazza 20 settembre e poi tra l'altro c'è un incontro anche con il vice ministro riccardo nencini che fa tappa ancora una volta a fano per illustrare gli sviluppi sulle opere comprensorie della 14 bene con quest'ultima notizia che riguardava fano la rassegna stampa questa mattina termina qui tornerà naturalmente lunedì mattina alle 7 e 45 vi informo che questa sera il telegiornale occhio la notizia non andrà in onda per lasciare spazio alle 20 e 30 in diretta dalla grotta di l'urda dei giardini vaticani il santo rosario a conclusione del mese mariano a presiedere il santo padre francesco bene con quest'ultima notta io vi ringrazio per la vostra attenzione terminiamo qui la rassegna stampa di oggi sabato mattina buon sabato e buon weekend a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti